Ciao, oggi ti do qualche trucchetto per stirare bene e velocemente senza fatica. Per prima cosa devi assicurarti che l'aster a stiro stia a tua misura, per poter stirare così comodamente. Seconda cosa, controlla ovviamente le etichette. Quando devi stirare una t-shirt o qualsiasi capo che abbia delle stampe, mi raccomando, stiralo al contrario, in modo che la stampa stessa non si rovini e non rischi di rimanere attaccata al ferro caldo. Un altro trucchetto è quello di stirare tantissimo le t-shirt con le mani, in questo modo. Andrai a togliere già un sacco di pieghe e farai molta meno fatica e impiegherai molto meno tempo col ferro. Ricordati sempre di stirare soprattutto le camicie dall'interno verso l'esterno, in questo modo. E i capi di cotone e lino spruzzali con un pochino d'acqua. Li stirerai molto meglio. Mentre le cose che sono ricamate, per stirarle, semplicemente vai ad appoggiarle sopra un asciugamano. In questo caso vedrai che saranno stirate molto meglio e il ricamo non si rovinerà. Facilissimo! Se il video ti è piaciuto, condividilo e lasciami un like di supporto. E ovviamente, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Ciao! 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 Ciao!